Bianca, sei l'attrice più piccola di questo film che si intitola Dieci giorni senza mamma. Bianca, ti piace fare l'attrice? Ti piace? Sì. Ti piace? Ok. Ma ti sei divertita? Chi c'era sul set? Zio Luigi? C'è. E com'è Zio Luigi? Bello. Bello. Bello? Bello addirittura, moglie lo diciamo. Allora, raccontaci qualcosa, qualcosa che ti è successo di bello mentre facevi questo film. Che ci racconti? Allora, ti sei divertita? Sì. Hai messo un sacco di bei vestiti? Qual era il vestito che ti piaceva di più? Questo qua. Questo qua? E perché ti piace? C'è una bella camicetta e una bella gonna. E perché ti piace tanto? Perché non mi piace. Ah, ecco. Senti, ma quando ti dicevano le cose che dovevi dire, tu eri contenta di ridirle? Chi è che te le diceva? Fabio. Ah, proprio Fabio te lo diceva. E tu lo sai che ti chiami Bianca anche sul film? Ma adesso tutti gli amichetti che ti vedono, sei contenta che tutti ti vedono e dicono Oh, c'è Bianca al cinema. Chi se ne vuole? Ma tu ci vai al cinema, Bianca? Sì. Ti vai a vedere i cartoni? Sì. Che cartoni ti piacciono? Non lo sai? Non lo sai? Allora ti lascio in pace. Grazie Bianca, sei bravissima e bellissima. Farei l'attrice da grande? Ciao tesoro! Ciao!